La Serbia è il miglior amico dell'Italia nei Balcani. Così, il primo ministro serbo, Dacic, in visita in Italia, ha esordito a seguito della bilaterale con il ministro Terzi. Un partenariato strategico, quello tra Italia e Serbia, evidente non solo dagli accordi siglati, ma anche dall'atmosfera politica, economica e culturale. Al centro dei colloqui tra Terzi e Dacic c'è stato anche il percorso europeo di Belgrado, che l'Italia ha sempre incoraggiato fino alla concessione dello status di candidato lo scorso marzo. L'Italia continuerà a sostenere le prossime tappe di questo processo e a svolgere un ruolo attivo nel promuovere il dialogo con il Kosovo. Crediamo nel futuro europeo di questo paese, ma nel futuro europeo più in generale di una regione, quella dei Balcani, sempre più integrata e economicamente unita e un mercato sempre più attivo e in forte crescita. Su Kosovo in particolare ho avuto anche oggi la chiara indicazione di un impegno deciso del governo serbo per portare avanti il dialogo strutturato con Pristina, un fattore molto importante. Un passo significativo è stato costituito dagli incontri trilaterali svolti si pochi giorni fa a Bruxelles. Serbia desidera far parte dell'Europa, desidera entrare velocemente in Europa, adempierà a tutti i criteri che le sono stati posti come condizioni. Abbiamo fatto sì che venga rinnovato il nostro dialogo con Pristina. Vorremmo risolvere non soltanto le questioni tecniche, vorremmo assolutamente risolvere i rapporti di tutti i tipi con Pristina. Vorremmo che durante il mandato di questo governo vengano risolte tutte le questioni aperte con Pristina, perché l'idea di un conflitto congelato da lasciare ai nostri figli da risolvere non è accettabile. Noi vorremmo, se ci fosse anche la prontezza e la disponibilità dall'altra parte, di trovare una formula che accontenterà entrambi i popoli nel Kosovo. L'amicizia consolidata tra i due paesi è arricchita da crescenti rapporti commerciali e dalla collaborazione nel settore produttivo. Dopo Russia e Germania, l'Italia è il maggior partner commerciale della Serbia con un interscambio di 2 miliardi di euro. Sugli investimenti italiani in Serbia rappresentano una realtà estremamente vitale, dinamica, con circa 500 aziende a partecipazione italiana che impiegano oltre 20.000 lavoratori da settore bancario, a quello assicurativo, al tessile, all'automobile. C'è una visione che condividiamo sulla creazione di nuovi mercati che questi investimenti creano e quindi in ultima analisi anche sulla crescita di dimensione e di ritorno di ricchezza che l'Italia trae e che le aziende italiane traggono dal potersi insediare in modo così efficace e di successo nel paese. Noi vogliamo che le fabbriche sul territorio serbo siano un allargamento dell'attività della produzione e la produttività italiana. Sono convinto che la Fiat in Serbia in quest'anno e nell'anno prossimo diventerà il maggior esportatore. Questo rappresenterà il nostro successo in comune perché Fiat della Serbia non è la Fiat italiana esclusivamente ma è anche una società, una realtà produttiva serba. È il nostro interesse anche sviluppare la nostra collaborazione nell'industria militare e vorrei anche accennare quanto è stata proficua e importante anche la nostra cooperazione a livello dei ministeri, degli interni, dei servizi di sicurezza.